Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILE dove ci sono rallentamenti per lavori tra Navacchio-Visignano e la diramazione per Pisa e tra Ponte d'Eraest e Montopoli-Valdarno, entrambi in direzione Firenze. In A1 rallentamenti per una perdita di carico tra Badia e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Per quanto riguarda le statali, sulla Aurelia svincolo chiuso per lavori a Cecina Nord in entrambe le direzioni. Uscita chiusa per lavori a Rosignano Marittimo in direzione Sud. Sempre in direzione Sud, tratto chiuso per lavori tra i chilometri 317,400 e 315 e 150 tra Stagno e la variante di Quercianella. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!